Musica Poi faremo 3 minuti al 90% Fuori sella E un minuto di recupero in sella Bene, e per non scontentare nessuno Facciamo una ripetizione in piedi e una ripetizione seduti Il tutto per 12 volte E' stato bravissimo Omar Aggiungiamo un gatto di resistenza Sì, sì, chiudo Il piede ha una buona andatura Ma sempre così Piano, veloce Sempre uguale Sempre uguale Ormai quella è la soldatura Pilota automatico, inserisce quello Un ritmo Monorismo È monorismo lui Ma così è basta Allora, 12 sono davvero tante, certo Ma Ma no Ma Ognuno fa quello che può No, voi no Solo da casa Ecco 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 Perché L'importante È dare il meglio Come dico sempre Se è poco è poco Se è tanto è tanto Ma Ma dando il meglio Se è sempre soddisfatti Perché siamo tutti diversi Perché siamo tutti diversi Ognuno non può dare Uguale all'altro Tipo io non posso dare uguale al Maurizio Eh Però sono contenta così Neanche come Neanche come il Piero Però sono contenta così Sono soddisfatta L'importante è Essere soddisfatti Di quello che si fa Ecco Chiudo Un goccio Eh Forza sulle gambe Iniziamo A prendere Le 80 Pedalate al minuto Tra l'altro Devo salutare Katia L'amica di Francesca Mi raccomando Non si molla Eh Katia Ora Maurizio Ha chiesto subito Se sei single Katia Fammelo sapere In chat Magari Francesca È single No Anche Francesca Sei single Fammelo sapere In chat Bene Salgo Su E prima però Chiudo Un goccio Come Allora Se volete anche Un walk O in tre Io preferisco Un walk Con le 80 Pedalate al minuto Quindi Tre minuti 80 Pedalate al minuto 90% Un minuto è già andato Maury 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 Non mi scrivono Nulla Faccio le croci Dopo Ma che imprevisto vuoi fare Con una lezione così Non si può Non si può Continuo Una bella Pedalata Briosa Un minuto Un minutino ancora Avete già un po' di fiatone Anch'io Molto Chi va giù? Che cardio Va giù Eh ma quando ci si alza in piedi Succede Ciao Katia Ecco Katia mi ha scritto ciao Adesso vediamo Se risponde anche No È felicemente sposata da 26 anni Maury Niente Scendo Tolgo Un minuto Recupero Niente Katia Il Maury ha già tirato una croce Non proprio No Non proprio così Perché non si sa mai nella vita Eh In totale Il minuto è andato Si chiude Tre minuti Tre minuti Da qui Avevamo aperto per recuperare Mamma no Mica è finito Hanno sbagliato Ecco i due uomini Non era ancora finito Non era ancora finito il minuto di recupero È finito adesso Chiudo Forza Tre minuti Da qui Da qui Ne mancano undici Anche Francesca Ha risposto Ma non sappiamo Se è sposata L'Omar dice Vabbè Insomma 90% Tre minuti 80 Pedalate al minuto Passa Passa Ecco Interessante Francesca Non è sposata Forza 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 Un minuto Ancora Forza 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 su con le gambette. Avete chiuso bene? Sicuri? Bruciano le gambe. Non importa. Non le ascoltiamo. E stop. Storbo resistenza. Recupero. Lo facciamo completo, tutte le volte. Che dite? Possiamo bere? E asciugare il sudore? La Laura chiede, ma è Marta Fovana o Maria De Filippis? Tutte e due. Tutte e due. All'occasione, all'occasione. Andrea chiede, quanti picchi si dovevano fare? Dodici. Solo dodici. Chiudo. E... Fuori. Ottanta. Pedalate al minuto. Novanta per cento. Tre minuti. Fuori sella. Linda, le elezioni sono sempre uguali. Tutte passeggiate. Vero? Omar, non ti sento convinto. Ti astieni? Non è valido. Due minuti. Due minuti. Vedete? Ritmo. Non sa voi. Ma io sto facendo fatica. No, niente torta. Dai, dai! Un minuto ancora! Ma no che faccio il mio lavoro! Ti faccio incontrare, no? Poi dopo succeda quel che succeda. Ah no, eh! Ambasciatore non porta pena. Ah no! Mi siedo! Che fatica! Però, c'è un però! Arriviamo a nove! Volevo cancellare! Ma è lontano! Adesso... Uno, due, tre! Prego! Ah no, ho dimenticato di bere, ma non c'è più tempo! Non c'è più tempo! Omar, non c'è più tempo! Dobbiamo lasciarci in piedi! No! Dobbiamo rimanere seduti e chiudere! Forza! Ottanta pedalata per minuto in sella! Novanta per cento! Una pedalata sempre brillante! Ma avete chiuso bene? State facendo fatica? No! No! Il Federico non la stava facendo! Perché quando ho chiesto ha chiuso! Un minuto è già andato! Un minuto! ma siete al 90% Omar 89 c'è bisogno di chiudere un goccio in più ma non è che devi attendere la fine dei 3 minuti non è l'arrivo è istantaneamente raggiungo il 90% a richiesta e lo mantengo per 3 minuti forza attenzione attenzione Marta dovessero esserci disponibilità io mi candido da single ma finta di non sentire il Mauri non io la Marta in chat e stop io passo i messaggi poi ve la sbrigate tra di voi quindi recupero adesso prima di asciugare il sudore bevo se no se no poi va a finire che non faccio il tempo no 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 Allora, possiamo gioire perché siamo a un terzo della lezione. Pensate, però, però, dobbiamo chiudere, alzarsi in piedi, 80 pedalate al minuto, 3 minuti 90%. Forza! 3 minuti! 2 minuti ancora! Porto su quelle gambette, ma non sono forza, anche velocità. Mantengo il ritmo! 1 minutino ancora! 2 minuti ancora! 2 minuti ancora! Stop! Come va? Molto male? Vero? Dai! Abbiamo una buona notizia! Con la prossima siamo a metà! La cattiva è che ce ne mancano 6 dopo! No, ora 7! Ora 7! Però facciamo finta di aver iniziato già la sesta! Certo che potete venire a trovare! Io, vabbè, organizzo un paio di volte all'anno le convention, ma che sono quelle ufficiali! Ma se voi mi volete venire a trovare, quando volete, siete benvenuti! Bene! Purtroppo abbiamo già finito! Però ci devi far trovare dei bei ciclisti! Quali ci sono sempre? Francesca! Così è! Chiudo! E vado! Ottanta pedate al minuto! Tre minuti! Novanta per cento! Ah no eh! Non ve li faccio vedere i fustacchioni! O venite qui o niente! Abbiamo il copyright! Vero! I diritti d'immagine! Forza! No, tutta! Vero! Il l'anteree! Bene! Segui! A finei! Vero! Vero! Mantengo! Un minuto ancora Rilassate le spalle Porta sulle gambe Porta sui pedali Come va? Manca poco poco Dai che stiamo quasi alla fine Della setta E stop Colgo Come va? Male Un po' affaticata Ma va bene Un po' affaticata Ma va bene Allora, come va? Ma vi state impegnando? Ma non lo so Secondo me quando ci sono le donne vi impegnate di più Sappiate che il recupero è finito Chiudo e salgo qui 3 minuti 80 pedalate al minuto 90% Durissima, sì Molto Sulla carta non sembrava dura, eh Sappiatelo Due minuti ancora Forza Non si molla Perché ormai vediamo il traguardo Praticamente No? Insomma Dai No? M Ancora un minuto Resisto Manca pochissimo al recuperino Baby, baby, baby Heading down the line Are you feeling I've nothing better to do Let's wait some time Are you feeling I've nothing better to do Let's wait some time Poco poco E stop Che male le gambe Attenzione, Katia scrive un bacio al mio Mauri Eh no, è la ragazza che è sposata Maury È vero, però magari è il suo marito, si chiama Mauri Facciamo abbassare la frequenza cardiaca Voi fate girare pure anche più velocemente le gambe Anche più velocemente Avete male anche voi? Tu che le fai girare velocemente è un problema Forse non è fatta abbastanza fatica Ah no, 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 Katia adesso non si chiama Mauri È il suo marito E quindi sento Pian piano, rallento Respirone E adesso mi avete fatto avvicinare questa cosa qui Tiro tiro Scendo E apro le spalle Eh Non lo gira un giorno in più di meno Genocchio piegato Davanti Gamba tesa dietro Stallone verso terra della gamba dietro Allora domani ricordatemi i calcini sbagliati Io devo andare a scuola a far finta di essere un po' befana E quindi con i calcini sbagliati non so se sarò credibile però Metto i pantaloni lunghi così non si vedono Altrimenti non mi prendono per tanto cazziva Mezzo giro Cambio Qui Su Scendo e cambio Girocchio Girocchio il petto Scendo Ultimo respirone E pari tutto giù Bravissimi Yeah E pari tutto giù Sempre No No Non Grazie a tutti.